Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. Quello che dico a voi, lo dico a tutti. Vegliate. Con la prima Domenica di Avvento veniamo introdotti a quel tempo attraverso cui la comunità cristiana sapientemente educa il popolo di Dio attraverso le parole della scrittura, attraverso i gesti liturgici, all'attesa intelligente e cordiale del compiersi delle promesse di Dio. Il tempo di Avvento allora si pone come paradigma della vita umana. La vita umana è tale, è degna della sua ampiezza quando è attesa di qualcosa, quando è attesa di qualcuno che viene. Allora qui sta il primo grande significato del tempo di Avvento, che il fluire del tempo, il fluire del nostro tempo, il fluire del tempo in cui siamo immersi non è il ripetersi stancante di istanti che si susseguono sempre uguali a se stessi, ma è cammino e convergenza inesorabile verso una meta, verso qualcuno che viene. Al fluire del nostro tempo, della nostra storia, c'è un senso che ci viene incontro. Si capisce allora perché il testo del Vangelo proposto dalla liturgia di questa prima Domenica di Avvento insista sul vegliare. Fate attenzione, vegliate, dunque. Quello che dico a voi lo dico a tutti, vegliate. Che cos'è la veglia in fondo se non un altro nome del desiderio, di quella dinamica che riempie il cuore e l'intelligenza degli esseri umani. Il nostro tempo ipermoderno confonde la realizzazione del desiderio con la soddisfazione del bisogno. La parola di Dio invece, il tempo di Avvento, ci richiama al fatto che il desiderio è sempre desiderio di qualcuno. È desiderio di un tu, come suggeriscono le parole del profeta Isaia della prima lettura, se tu squarciassi i cieli e scendessi. Quel tu, il tu di Dio, è il compimento di ogni nostro desiderio più radicale e più profondo.